Non ho mai pensato di esonerare Cudini, così il patron del campo basso Mario Gesuè smorza le polemiche. Del resto l'allenatore eventualmente andava mandato via prima quando c'era la possibilità di agganciare la vetta. Ora a tanti punti, dal primo posto, non ha alcun senso, anche perché Gesuè, a differenza di molti suoi predecessori, gli allenatori, più in generale i dipendenti, li paga. Certo il malumore cede, è forte, d'altronde due X contro Cattolichi e Fiuggi, squadre alla portata che lotteranno per non retrocedere, non erano in preventivo. Con due successi il campo basso si sarebbe ritrovato in zona playoff invece di leccarsi le ferite e cercare di tenere a bada la contestazione. Una piazza, quella russo-blu, che non merita la Serie D, l'augurio per fare meglio in futuro, arriva da Peppe Incocciati, allenatore del Fiuggi, ex bomber di Milan e Ascoli, che al Romagnoli, quando era pieno e in altra categoria, ha giocato e segnato. Un po' di nostalgia ce l'ho avuta quando sono ritornato in questo stadio, ci ho giocato con il Milan, ci ho giocato con l'Ascoli, sempre in B, e vedere questa bellissima struttura mi fa pensare a due cose importanti e sentimentali della mia vita. Il primo è che questo stadio l'ha costruito il mio ex presidente, Costantino Rozzi, lo abbiamo amato tutti e continuo a amarlo anche se non c'è più. E poi mi ricorda la mia gioventù e qualche golle che ho fatto anche qui dentro. Mi dispiace vedere la realtà della squadra, della città, che possa ancora stare in una categoria che non gli appartiene. Però mi hanno detto che la società è una società nuova, una società che sta facendo enormi sacrifici, ci sono buone possibilità, io non posso fare altro che augurare a voi, al Campobasso, ai ragazzi della squadra e a tutta la società di tornare quanto prima Serie B, perché ci siete stati e bisogna ritornare lì. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.